Ciao a tutti da Vittorio. Il mercato in uscita è importantissimo per la Lazio, non ce lo dimentichiamo. La Lazio ha ancora tanti giocatori in esubero, penso a Tormisi, penso anche a quelle new entry, se volete, a Cerbi e a Quapro che non sono stati convocati nel ritiro di Germania. E ieri sera c'è stato un colloquio a Formello fra Francesca Cerbi e Claudio Lotito. La Cerbi che non è stato convocato per il ritiro della Germania e quindi si sta allenando a Formello con il resto degli esuberi, ha parlato con Lotito perché bisogna trovare una soluzione a questo problema. Il problema è importante perché non ci dimentichiamo che la Cerbi ha uno stipendio importante per la Lazio, è uno dei giocatori con lo stipendio più alto e quindi avere come esubero uno dei giocatori con lo stipendio più alto non è mai una cosa bellissima. E quindi Lotito ha parlato con la Cerbi perché? Perché la Cerbi finora ha rifiutato le poche proposte arrivate. Lui vuole una big e quindi ha rifiutato le avanze del Monza che si era fatta avanti offrendo anche un contratto importante per il difensore centrale della Lazio. Ma la Cerbi vuole Milan, Inter, Juventus o Napoli. Queste quattro squadre che al momento però non si sono mosse in modo ufficiale. Il Napoli ha pensato a prendere a Cerbi quando ha scendito Colibali ma al momento è andata su altre piste. La Juventus anche sta valutando dopo De Ligt ma a Cerbi non sembra il candidato numero uno. La notizia di ieri sera è che l'Inter potrebbe cedere Skriniar. Ci dovrebbe essere oggi colloquio col Paris Saint-Germain che potrebbe sbloccare la trattativa. Chissà che questo non sblocchi il calciomercato di Acerbi. Chissà che Izaghi non chiede al suo ex pupillo Acerbi a Marotta. Però quello che ha discusso Claudio Rotito ieri con Acerbi è che c'è il pericolo che Acerbi si faccia un anno in tribuna. Ed è una cosa che nessuno dei due vuole. Acerbi perché se rimanesse in tribuna perderebbe la Nazionale. E Rotito perché ovviamente dovrebbe pagare un giocatore che non si allena e non gioca con la prima squadra. E quindi Rotito ha provato a convincere Acerbi a calare le pretese. Accettare anche squadre di seconda fascia se volete. Magari non il Monza ma un'altra squadra che magari lotta per l'Europa League o per il settimo ottavo posto. Insomma Acerbi deve capire che la Juve potrebbe non farsi avanti. Che il Milan potrebbe non farsi avanti. Che il Napoli non potrebbe non farsi avanti. E quindi Acerbi deve decidere rimango sulle mie posizioni e rischio un anno in tribuna. O accetto, mi accontento e trovo un'altra squadra dove rilanciarmi quest'anno. Ecco questo è un po' il succo di discorso della chiacchierata fra Rotito e Acerbi. Una chiacchierata importante perché Acerbi ha dato anche tanto alla Lazio. Anche se negli ultimi due anni secondo me l'impegno non è stato come negli anni precedenti. E il calo si è visto in campo e fuori. Rotito vuole risolvere questa questione perché sì, non so se qualche altra squadra si farà avanti. Adesso bisogna vedere la situazione Inter con la cessione, se avverrà di Skriniar. Però Acerbi rischia di essere un problema importante. Un po' meno complicata invece la situazione ACPA a Pro. Anche lui finito fuori rosa. Lui però ha qualche richiesta dall'estero. E soprattutto ACPA non si è impuntato. Non vuole solo top club ma vorrebbe giocare. Quindi è interessato a qualsiasi offerta. È aperto a qualsiasi offerta. E quindi la Lazio spera, conta, di poter cedere il giocatore il prima possibile nelle prossime settimane. Perché anche la cessione di ACPA libererebbe spazio. Abbasserebbe molte ingaggi e per la Lazio sarebbe una situazione importantissima. Come sarebbe importantissimo liberarsi di Rizzadormisi. Anche lui uno stipendio sopra milioni di euro. Anche lui si sta allenando a Formello ormai da tempo. Anche lui è in attesa di sistemazione. Si è parlato del Brombi, quindi la Danimarca. Si è parlato della Spagna. Qualche club sarebbe interessato a Dormisi che proprio in Spagna aveva fatto bene. Tant'è che la Lazio l'ho presa da Betis Siviglia. Però al momento sono tante chiacchiere e nulla di concreto. La Lazio dovrebbe cercare di accelerare per vendere giocatore come Dormisi. Intanto Falbo ha salutato la Lazio e è andato al Monopoli. L'ex Primavera andrà a giocarsi tutto al Monopoli. Io gli auguro il meglio perché è un bravo ragazzo. Un ragazzo che poi a Viterbese aveva fatto bene. Uno dei pochi ex Primavera che ha giocato titolare. Dovrebbe essere uscita anche Armini. Un altro che onestamente non capisco perché non è stato aggregato alla prima squadra. Almeno a fare il ritiro ad Auronzo insieme agli altri. E invece per il secondo anno consecutivo Maurizio Sarri non lo ha voluto. Parlando di ex Primavera mi piace sottolineare come invece Marco Bertini sia in Germania. Marco Bertini è partito con la prima squadra e dopo il ritiro di Auronzo è andato in Germania. Dove probabilmente ricoprirà il ruolo di Akpa Pro in attesa di chiudere la trattativa con Vesino. Ecco, mi fa molto piacere per Bertini. Avevo fatto un video tempo fa dicendo che Bertini è un jolly molto interessante perché può ricoprire tutti e tre i ruoli. Mi piacerebbe che Sarri desse qualche chance reale in campionato o in Coppa Italia o in Europa League perché sapete come la penso. Io adoro il giovane della primavera che entra in prima squadra e gioca effettivamente e non fa tribuna. Bertini potrebbe essere quel giocatore anche perché Sarri lo ha fatto giocare nelle ultime amichevoli. È un giocatore interessante. È un giocatore che secondo me ha il potenziale. Qualcuno dirà, eh ma perché nella primavera non l'ha fatto così bene? È anche vero che quando la squadra è in confusione, quando vicino non hai questi grandi campioni, pure te che hai talento puoi andare in difficoltà. L'altro che mi sarebbe piaciuto molto è Floriani Mussolini che però ormai è vicinissimo a Pescara per cui credo che la sua avventura con la Lazio è momentaneamente terminata, andrà via in prestito. Però mi piace sottolineare che qualche giovane della primavera in realtà qualche opzione con la prima squadra ce l'ha. Ovviamente c'è anche Furlanetto che al momento fa il terzo portiere. Vedremo, secondo me si merita un'esperienza in Lega Pro per crescere, però vedremo quello che succederà. Noi ci rivediamo dopo. Dopo l'amichevole Lazio, Genova. Ciao, a dopo.